Siamo arrivati nella piazza principale di Merida, come vedete, là così c'è la cattedrale. Siamo arrivati a Merida, la capitale dello Yucatan, siamo all'hotel Maria del Carmen, andiamo a vedere che non è. Wow, in questa section c'è anche questo salottino. Questa è la piscina dell'hotel che ovviamente adesso vi butterò subito. Vediamo la stanza. Bella, due letti, anche se sono da solo. Che caldo, c'è anche l'acqua. E questo, questo è il bagno, la sua doccia, ci sta. Siamo venuti in centro qui a Merida, che è la capitale dello Yucatan. Adesso vi porto a visitare un po' la città. Qui ci troviamo a Paseo Monteco, che è la via principale, quella più importante, con tutte le ville coloniali. Guardate che bella, questa villa. Wow, molto molto bella. Guardate che entrata è questa villa. Siamo arrivati al monumento alla patria, che praticamente è una rotonda. Adesso ve lo faccio vedere un po' più da vicino. Abbiamo attraversato, ce l'abbiamo fatta. Eccole. E dietro di noi c'è il Mac, il McDonald's e tutta la città. Invece dietro, senza luci, è così, tutto naturale. Veramente, veramente bello. Siamo arrivati nella piazza principale di Merida, come vedete. Là così c'è la cattedrale. Guardate che bella che è la piazza. Vi faccio vedere anche la perfezione, come è tutto ben curato. Guardate gli alberi. Molto molto bello. Guardate che spettacolo. E' quella classica sedia. Bello. Wow, che bello questo palazzo. Wow. Sono tornato all'hotel e guardate che bella vista sulla piscina. Da Merida è tutto. Ciao. Ciao.